E' una mania che per mar non si potrà di collezionar le figurine son le figurine una gran calamità per le donne, uomini e bambine non più franco bolli, quadri o d'altre rarità, ma oggi giorno parla solo a me di padron di casa, Greta, Giorgio, Alibaba, Bill, c'è mademoiselle de Pofferier Scusi, avrebbe un saladino? Marta Abba, io le darei Se vuol cambiare l'arlecchino, la Marlene le cederei Vede, ho una bella sulanita, che oggi vale 26 Gliela do per condè, per mangiù, per tarzan e il dannato castella Se una bella donna a te resistere vorrà, non ti devi caro più bruciar Nelle braccia tue certamente staccadrà, se un pechinese le puoi dar Ieri un inquilino, la pigione andò a pagar, ma il poverino equivocò Il padron di casa più non si lasciò scappar, ma sulla raccolta li incollò Scusi, avrebbe un saladino? Io, Brunilde, le darei Vede, quest'ottimo pierino? Con il leone cambierei Se a lei occorre, Re Luigi, io cambiare lo potrei Mi darà radamè, tic-tuc-tac, spiridion Oh, lì sei il furbacchio Se in casa vostra la discordia qualche volta regnerà Basterà Tandokan, Changheil, Ricci Liu Per non vi sticciare mai più Grazie